E' di più di 146.000 euro a cui se ne aggiungono circa 80.000 erogati dalla Fondazione Carifano, l'esito del bando Crowfounding 2022 è giunto alla seconda edizione che ha permesso di realizzare i progetti di otto associazioni. A partecipare a questa iniziativa anche la Rete del Dono, una delle associazioni che attraverso questo progetto ha potuto acquistare un pulmino per aiutare i diversamente abili a vivere meglio, è la Mariposa di Colli al Metauro, grazie alla raccolta fondi, un pulmino con il cuore. La mobilità è un bisogno primario per le persone fragili e le loro famiglie, dalla mobilità primaria come il trasporto per visite e controlli medici, alla mobilità per commissioni quotidiane e per organizzare eventi di socialità e svago. Sono molto felice di essere qui insieme anche al sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, perché insieme si cerca di portare avanti tanti progetti proprio utili al sociale. Oggi inauguriamo un mezzo che è importante per l'associazione Mariposa che ci ha invitati a questo evento e speriamo che ce ne siano altri che possano dare spazio e possibilità di poter godere di quelle che sono la normalità, una vita normale a questi ragazzi meno fortunati. Pensare al terzo settore, pensare alle persone con più difficoltà che in questi momenti raggiungono una pari dignità e quello che forse le nostre amministrazioni comunali dovrebbero cercare di valorizzare il più possibile, perché ridurre le differenze è il primo degli obiettivi di qualsiasi amministrazione comunale e qualsiasi ente che lavora nella pubblica amministrazione. Le emozioni per i risultati ottenuti grazie a questo progetto? Le emozioni sono importanti e sono forti perché da questa esperienza abbiamo avuto la conferma che per ogni euro che mette a disposizione la fondazione la comunità ne raccoglie altri due. Quindi questo ci conferma che siamo sulla buona strada perché quando ci sono buoni progetti sostenibili e condivisi la collettività risponde e questo ci dà soddisfazione. Quindi per me è un onore come Regione Marche essere partecipe qui all'inaugurazione di questo pulmino che servirà all'associazione. Proprio in questi giorni come Regione abbiamo finanziato anche un altro pulmino proprio per i disabili che sarà dato, realizzato e comprato dal comune di Colli al Metauro che è presente anche in massa oggi per testimoniare la vicinanza a questa associazione e anche la vicinanza nostra come Regione oltre che all'associazione anche al comune di Colli al Metauro.